Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il campo di alta pressione che nei giorni scorsi ha portato bel tempo e temperature gradevoli si defilerà ad ovest consentendo ad aria più fresca di fluire da est. Si creeranno quindi le condizioni per lo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto nelle aree interne della dorsale appeninca con locali sconfinamenti sulle aree pianeggianti e costire. Le temperature risulteranno in calo a causa della ventilazione sostenuta dei quadranti settentrionali ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 11 aprile. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con locali deboli piogge in Basilicata e sul subappennino Dauno. Dal pomeriggio graduale estensione della nuvolosità a tutte le aree interne di Puglia e Basilicata con locali rovesci e qualche temporale specialmente a ridosso dei rilievi. Temperature come possiamo notare dalla grafica che risulteranno in aumento nei valori massimi. In calo invece le minime con accessi a escursioni termiche tra il giorno e la notte. Ventilazione variabile da sud ovest in rotazione dei quadranti settentrionali dalla sera. Mari da calmi a molto mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo il nostro telespettatore Giuseppe Calogero per il suo scatto che ritrae un incantevole scorcio di monopoli alle prime ore del mattino. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.